Se l'hai duro o no? No, ce l'ho duro No? Però quando vedi la romana di Roma o la murina No? Però è stata una bella esperienza Si Che foto da bere che l'avevo? Direi che era sulla foto Ma se li si vedeva qualcosa Però quando tu l'hai vista No, va bene Ci faresti un 25 centime? Tu? Se ci avessi te lo direi Ti ho detto magari si vede un salto che sai dove viene Sì, certo Saluta, saluta i tuoi amici Ciao amici Tipo, l'ipoperizoma Tipo È vero, ma è così Tre aggettive con cui descriverti Simpatico, timido Molto di maniera Affidabile Fai un saluto a tutti i tuoi amici Ciao ragazzi Grazie, grazie Seguitevi su The Grab e Riccatevi A presto A presto